In questo numero del Tg Ambiente, rinnovabili in crescita, l'eolico supera il gas, agrivoltaico innovativo, arrivano gli incentivi, per le utilities 1,8 miliardi di investimenti green all'anno. Caldo record a gennaio 2024. Nel 2023 le energie rinnovabili hanno segnato un record storico nella produzione di elettricità. Secondo i dati dello European Electricity Review, l'elettricità generata nel 2023 grazie all'utilizzo di turbine eoliche ha superato quella prodotta utilizzando il gas naturale. L'elettricità generata dal vento è stata di 475 TWh, mentre quella prodotta da gas è stata di 452 TWh. L'eolico ha registrato una crescita del 13% rispetto all'anno precedente, ma tra in aree la crescita delle rinnovabili è il solare, che registra una crescita del 37% rispetto allo scorso anno. La produzione da fonti fossili è crollata del 19% nel 2023, rappresentando per la prima volta meno di un terzo dell'energia elettrica dell'Unione Europea. La produzione di energia da carbone ha registrato un calo del 26%, mentre quella da gas è diminuita del 15% toccando il minimo dal 1990 ad oggi. Per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea però è necessario accelerare la crescita dell'energia eolica e solare. Il piano Repower EU, infatti, prevede che entro il 2030 l'energia eolica e solare raggiunga il 55%, quasi raddoppiando rispetto al 27% del 2023. È entrato in vigore il decreto che promuove la realizzazione dei sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Obiettivo del provvedimento è la realizzazione di almeno 1,04 gigawatt di nuovi impianti, nei quali possono coesistere la produzione di energia pulita con l'attività agricola. Per il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Frattin, si aggiunge un altro tassello alla strategia energetica, valorizzando in questo caso la grande potenzialità del settore agricolo impegnato nella transizione. Per promuovere la realizzazione di questi sistemi ibridi agricoltura e energia è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. Un miliardo e 800 milioni di euro all'anno è quanto investono le imprese dei servizi pubblici per centrare gli obiettivi della transizione ecologica. Emerge dallo studio di Utilitalia il ruolo degli utilities tra sicurezza energetica, sostenibilità e competitività, presentato nel corso di un convegno a Roma. Sono cinque le linee strategiche rinnovabili, molecole verdi, reti di distribuzione, efficienza energetica ed economia circolare. Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia. Le multi-utility esprimono un valore intrinseco, dato il fatto che sono profondamente radicate nel territorio e possono lavorare molto efficacemente in sintonia con il territorio di operatività. L'altro aspetto è che lavorano in termini multisettoriali e quindi si occupano di energia ma anche di settore idrico e di rifiuti e questo può rappresentare un valore aggiunto per rendere più efficienti le attività anche in termini di sostenibilità e nell'ottica della transizione energetica. Oltre a 1 miliardo e 800 milioni di investimenti relativi alle linee strategiche, analizzando tutti i settori di competenza, il valore aggiunto distribuito dalle utilities ai diversi stakeholder è pari a 12 miliardi e 700 milioni. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin. Qual è il contributo? Le utility sono parte integrante del nostro sistema energetico, quindi sono il polso della situazione, come tale quelli che sono i loro investimenti sono investimenti al paese perché automaticamente determinano il beneficio dello sviluppo delle nuove tecnologie di una distribuzione più puntuale, della capacità di stare al passo coi tempi. Dopo il record raggiunto dal 2023 come anno più caldo di sempre, anche il nuovo anno si è aperto all'insegna della crisi climatica. Il mese di gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale dal 1850. A rivelarlo i dati di Copernicus, il servizio di monitoraggio dei cambiamenti climatici dell'Unione Europea. Dallo scorso giugno ad oggi il mese di gennaio è l'ottavo mese di fila ad essere il più caldo mai registrato rispetto a quelli corrispondenti negli anni precedenti. Le temperature di questo mese hanno superato di 0,7 gradi la media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020, di 1,66 la media del periodo compreso tra il 1850 e il 1900 e di 0,12 il record precedentemente segnato nel 2020. Un record dovuto agli effetti combinati dell'inquinamento dovuto all'attività umane insieme al fenomeno meteorologico del Nino che riscalda le acque superficiali dell'oceano pacifico orientale. Anche le temperature oceaniche infatti hanno raggiunto nel mese di gennaio 2024 il loro picco massimo toccando la soglia di 21,1 gradi, lo stesso livello raggiunto ad agosto 2023. Secondo gli esperti il 2024 ha una probabilità su 3 di essere ancora più caldo del 2023 e il 99% di probabilità di rientrare nella classifica dei 5 anni più caldi di sempre. Grazie per la visione! Grazie a tutti.